Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale MarioTenedo Oggi siamo qui su Minecraft e vi farò vedere come curare un villager zombie Visto che me l'avete chiesto nei commenti Partiamo subito dai materiali base che ci serviranno Ci serviranno 8 blocchi di pietrisco per la nostra fornace 4 assi di quercia per il nostro banco di lavoro Altri 3 pietrisco per l'alambicco Ci servirà del combustibile 3 blocchi di sabbia 8 di oro grezzo 2 verghi di blaze 1 fungo marrone 1 canna da zucchero 1 occhio di ragno 1 polvere di sparo 1 mela Partiamo subito dal banco di lavoro Quindi 4 assi E piazziamo qui il nostro banco di lavoro Da qui faremo la nostra fornace E inizieremo subito a cuocere la sabbia Per curare il nostro villager zombie ci servirà una pozione di debolezza lanciabile e una mela d'oro Nell'attesa del vetro inizieremo a craftare il nostro occhio di ragno fermentato Quindi faremo prima dalla canna da zucchero lo zucchero e poi l'occhio fermentato craftandolo in questo modo Quindi zucchero, fungo marrone e occhio di ragno Dopo che andiamo a fare l'alambicco Metteremo una verga di blaze così e 3 di pietrisco Andiamo anche a piazzare il nostro alambicco Nel frattempo il vetro è pronto E andiamo a craftare i lingotti Con il vetro ci andremo a fare le ampulle Ce ne darà 3 ma a noi ne servirà una sola Nel frattempo è nell'attesa della cottura dei lingotti Andiamo a riempire la nostra ampolla di acqua Eccoci qui Adesso iniziamo già con la pozione Prima di tutto dalla verga di blaze andremo ad ottenere della polvere di blaze E nel nostro alambicco Cavolo inizia anche a piovere Nel nostro alambicco andremo a piazzare l'ampolla d'acqua L'occhio di ragno fermentato e la polvere di blaze Adesso dobbiamo attendere sia la pozione che i lingotti di oro La pozione è pronta Come vi dicevo in questo momento è una pozione di debolezza non lanciabile Quindi possiamo solamente berla noi questa pozione Per trasformarla in lanciabile andiamo a mettere la polvere da sparo sopra Nel frattempo gli 8 lingotti d'oro sono pronti E iniziamo a craftarci la nostra mela d'oro Quindi mela al centro e tutti i lingotti intorno Ok non ci resta che aspettare la pozione di debolezza lanciabile Che praticamente è pronta adesso Eccola qui Ok il nostro villager zombie è pronto Anche noi quindi abbiamo pozione di debolezza lanciabile E mela d'oro Andremo prima a lanciare la pozione di debolezza Verso il nostro villager E dopo faremo lo stesso con la mela d'oro Adesso non ci resta che attendere dai 2 ai 5 minuti E vedremo il nostro villager trasformato da villager zombie a villager normale Eccoci qui ragazzi abbiamo anche raggiunto l'obiettivo medico degli zombie E il nostro zombie villager si è trasformato in un villico normale Possiamo anche liberarlo adesso E' innocuo Ok ragazzi io vi saluto per questo episodio E ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.